Una Napoli che non ti aspetti, quella di Into Paradiso, tutta di tetti, di terrazze, di cortili, dove invece che del ragù si sente il profumo del curry. La Napoli che accoglie gli emigranti, purché non vedano le maglie della rete della Camorra, nelle quali restano invischiati, Gian Felice Imparato e Peppe Servillo, protagonisti di questa commedia surreale e poetica diretta da Paola Randi. Nel momento in cui il buon Alfonso perde il lavoro, si decide finalmente a chiedere una raccomandazione, lui che non è per niente ad uso a queste cose. E le conseguenze di queste raccomandazioni sono macroscopiche, sono gigantesche. Noi stiamo raccontando comunque una favola. Co-protagonista Salman Antony, nel ruolo di un immigrato atipico, star dello sport nel suo Sri Lanka, che si ritrova badante e prigioniero degli eventi.